Per me è davvero respirare un'area nuova, un'area senza contaminazioni ed è sicuramente da quanto ho conosciuto Chiara e così, e questo si respira secondo me il documentario perché il documentario è davvero sincero, abbiamo cercato di rappresentare quello che siamo veramente, senza cercare di fare questa cosa, anche se la vita è dura non respiriamo un'area sorordinaria. Quando sento un bonafano del mecanismo del mio lavoro mi beso sempre a tuo sorriso e apro la finestra sul giardino è sicuramente da sia, saudi aria, è sicuramente da sia, saudi aria, è sicuramente da sia, saudi aria. Quando ti senti un po' sfruttata Da questo mondo Comincio a lunghi anni Non fai sbagliare il tuo sorriso Le tre passe ci sono Per già meno E' sfidaria Straordinaria E' sfidaria Straordinaria Ossigeno Libero Da inquinamento Ossigeno Libero Da un momento E' sfidaria Il volo con me E' sfidaria Quando mi sento scoraggiato Ripenso sempre Al tuo sorriso E' mi